ahah si intanto lei è un dps ranged prende lo spot di varrick sostanzialmente devo livellarla però lei sicuramente 30 allora andiamo con 33 30 20 cost e magia ma pare posto questo che fa ha una profonda conoscenza della magia del sangue e dei poteri attivando questa modalità sacrifica la propria salute per disporre maggiore scorte di energia a dedicare agli incantesimi quando segui l'inizio della luce a meri può utilizzare ferite del passato vabbè impiamo tutto ma che te devo dire scaglia le forze della terra contro gli avversari danneggiandoli per l'intera durata dell'incantesimo nice attira i nemici circostanti con tralci di magia naturale allo stato puro infleggiando gravi danni lancio della pietra è un incantesimo molto raro perfino tra i guardiani consente di muoversi rapidamente nel sottosuolo raggiungere un alleato vabbè può essere utile ferite del passato subiscono danni che annullano la difesa dell'armatura la resistenza ai danni le creature prive di sangue sono immuni ok intanto prendiamo queste tanto lei comunque è un mago che deve fare i fantabozzi deve fare i dannoni uh bello questo qua entropia entropia ma ce l'hanno tutti spirito arcane elemental prima prendiamo la versione potenziata questa qua che dà più danni e probabilità di paralisi poi questo che c'è rigenzione alla salute uno per ogni nemico circostante danni in natura più 10 diametro più 8 prendo tutto entropia lancio un incantesimo vincolante che riduce la precisione degli attacchi di un nemico oltre a impedirgli di sferrare colpi critici straziano la mente del nemico lasciandolo stordito io le prendo tutte queste voglio provarle tutte tutte ho 4 punti li usiamo poi 4 punti voglio provare tutte le spell che c'ha lei sono proprio curioso ah tra l'altro deve fare quindi quando lei c'ha questa attiva cosa fa ah ma è una roba attiva questa qua contro l'avversario ah questo praticamente uh 30 secondi 4 secondi rigenzione alla salute per ogni nemico ma che cacchio però questo qua ma questo mi fa usare costo un'unità di salute fornisce 2 mana ed è immune la guarigione normale stonks si però voglio capi un attimo cioè posso usare il mana nonostante mi usa la vita al posto del mana quando c'ho questa attiva quando sangue dell'iniziatore è in uso merile poterizzate ferite del passato non può essere curata con i normali ferite del passato trappolare ferite del passato vabbè vediamo ferite del passato ferite del passato ferite del passato ferite del passato ho vivuto per anni vedo la prima e io ho vivuto ter Che ti è tornato a Stadion. Hai riconosciuto questo passaggio a ultimo? Io... Voi. Sto con te. Grazie, Hawk. Che per la casa di Arulinhome, la scena di carriera che la madre ha guardato. Vedo. Voi che ti ha piaciuto di rinforzare l'Aluvian. Non hai bisogno di approfondire. E beh Un compito Bene 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 Facciamo sto compitino E let's go Io sono contento di non avere quella staffa Che c'è la guardiana La staffa buca nuca Un po' più alta eh Un po' buca testa però Dipende da dove la tieni a attaccare Se la metti un po' più bassa è la buca nuca Ci dà l'Aulin Vabbè quindi dobbiamo fare Sta missione e poi lei ci dà l'Aulin Cerca di rintracciare i cacciatori che la guardiana Ha inviato per catturare Che è di cui Ok Credo Vediamo un po' Immagino un specchio è questo Ci sarà qualcosa che prima era È una caverna che prima era chiusa Adesso è aperta magicamente Così riusiamo le mappe 200 volte Let's go Ecco questa è una cosa che mi sta parecchio sui coglioni No? Tipo su Skyrim per esempio È una figata perché tu stai pagando random Vedi sta caverna Dici Vede le cose Dici Guarda che bello è E qua vedi la buca E non ci puoi entrare fin quando non è il momento Capito? È un po' un flop sta facendo Allora questo è a target singolo Questo pure Questo cosa fa tra l'altro? Riduce la precisione di attacchi Questo qui Manipola la mente di tutti i nemici In un'area circostante Cercando di addormentarli per breve tempo Ok Ah figo questo Beh oddio Fino a una certa Poi Colpisce i nemici con tutti gli incantesimi Entropici minori Ma che diavolo vuol dire? Cosa ho fatto? Cosa diavolo ho combinato? Eh però Zio devi tipo curarla mega Lei Eh però Bei dannini Solo che è implosa È fatta di polistirolo la ragazza Belle spell Belle cose Bell'idea Tutto quanto Tutto molto divertente Lei praticamente Deve andare sotto ai nemici E fare queste due robe qua Fa questo E subiscono danni Che annullano la difesa L'armatura E poi quest'altro Che fa Gravi danni Che deve avere la furia di elven attiva Quindi sostanzialmente Questo è quanto Poi c'ha mille malocchi Mille cose Forse Forse l'avrei dovuto dare Qualcosina di più Di costituzione Ah Bene La buona vecchia Questi sono dei nemici Che si alzeranno Già lo so La buona vecchia Ah tra l'altro Una cosa che potevamo fare Era passare in città Al volo A prendere A prendere qualcosina Per Vabbè Sti cacchi Questi Io li do a lei Non c'è prega niente Questa è fuffa proprio E A vendere la roba E a fare un girino Così Ma vabbè Qua pure Questa qui è chiusa Come si fa ad aprire Probabilmente sarà una roba Riciclata Ed è chiusa E basta Credo Non lo so O forse C'è tipo Non lo so Io la cosa che mi mette Il dubbio Di queste cazzo di portes E se Serve un pg Che abbia una certa stat Oppure se letteralmente Mettono Il pezzo di cose Per chiudere delle zone Nelle Nelle mappe riciclate Il che Questo l'avevamo già detto Nelle puntate precedenti Mi sa proprio Che questo è il caso Che la mappa riciclata La chiudono con i cosi E arrivederci Vabbè boys Ma lei tipo Implosa Scusa Cioè Lei letteralmente Dura un secondo Con questo giochino Non capisco Devo provarci Devo provarci Quando non è aggrada Da nulla So pure Un botto Dei ragni So pure Una cifra Di ragni Questi qua Tra l'altro Un to salda Un plug Un plug Un plug Sì, poi sti punti mi sa che glieli metto Perché se no ogni volta che clicco su delay Mi scivola la faccenda E fa qualche disastro Ecco, magari potrei usare Questo, questo, tempesta Galvanismo Terra al cielo e figgendo danni Elettrici tempo per andare a manipolare le rocce in modo ancora più efficace Vai, mettiamo tutta sta roba E poi scopriamo di che è come funza il tutto Ah, figa Stavo per dire Figa l'armatura Ci manca parecchio DPS senza il nano Devo dire Il nano aveva il suo Allora, questa cinturaccia della schifo lordo gliela diamo a lei Che è meglio comunque di niente Lei non ha la sua roba quella Il super equip c'è da dire Che il super equip fa Sì, una giornata Vediamo un po' Hai trovato il catapro di uno dei cacciatori Trova altri due Oh, andiamo così che vedevo dio Proviamo Qualcosa deve averlo provocato Ma tutti questi scheletri per terra Non lo so se secondo me Se rialzeranno nella via Verso l'uscita Ci sarà qualche gabula Altro pezzo riciclato Pure questo qui Mamma mia Che marciume Parecchio marcia sta cosa Qua giù Qua giù Stiamo 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 Distruggi Ma la cintura degli Oak 20 salute Mala vigore Immunità I colpi Critici Mamma mia Butta via Marcia Tra l'altro lì è chiuso Sempre come al solito Con quelle porticine Mi viene da pensare Dopo alla 300 milionesima porticina Che non siano segreti Nella mappa Ma semplicemente Sia marcia La faccenda E basta Sì, però Tipo le spell Quelle buone Che io mi devo ricordare Che esistono Allora Mettiamoci indietro Per prima cosa Tutti da questo Ok Allora Sì, adesso faccio questo Ok E poi faccio quest'altro Sembra fare dei danni Sembra fare dei danni Bisogna solo fare attenzione A non Bisogna solo fare molta Molta attenzione A non farlo in mezzo A 20 nemici Che ti mangiano Ma lei tra l'altro Ma lei tra l'altro Ce l'ha Inventario Diario Personaggio Circondato Altri nemici E Non c'ha quell'altra Vabbè Ma si può fare Si può fare Manualmente Beh Fa bei dannini Lei Comunque Devo dire Che sta facendo Bella forte Bella forte Ok Non male Soddisfacente O ricalco Bene Col quale si facevano cose Che non si sa cosa Cose varie Brillantite Tipica brillantite Qui c'è un baulaccio Normale Che facciamo aprire a lei Ok Facciamo Facciamo così Distruggiamo quest'altro Io lo so Che voi state soffrendo Di Diala Ma che fai Spacchi il luto Che c'è La zervagnia Tutta fuffa Porca miseria C'è proprio roba Che non la vendi Ma neanche Al mercato Delle pulci Sta roba Che c'è Che ci sta droppando Il Il gioco L'amuleto Di Chanda Oh Cosa triste Sono morti Coraggiosamente Uh 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 C'è un altro vivo Forse Adesso Chiuderà la porta Tutto I nomi Si chiama veramente Polle questo Polle cos'è Sono gli elfi Che chiamano i figli Con i nomi americani Scritti letteralmente Come si pronunciano Adesso ne incontreremo uno Che si chiama Antony Scritto N T O N I Allora Non ti faremo del male Dai proviamoci un po' E tanto sta un metro Qual è il problema Camminiamolo Andiamo a prendere Paul Tre passi Una cazzina Che cazzo Ce l'hanno messa a fa' Sta cosa E mo' esplode Ciao Paul Uh bello Come si chiamavano Sti affari Mica mi ricordo C'ha un nome specifico Sto attrezzo Il Varterral E ne avevamo fightato Uno O addirittura due Su Dragon Age Origins Mi sa addirittura un paio Io gliele faccio tutte le robe Che lo debuffano Tutte sega Ok Ok Questo è solo intorno Là Ok vediamo questo Lo facciamo soffrire un sacco Un po' Sembra che stia andando Tutto quanto bene Vediamo se riesco a petrificarlo Oh yes ci sono riuscita Oh vero Lei non si è curata di nulla Praticamente Quest'altro che faceva Dard di Maggi C'era il campo di battaglia Aia ma questa Questa sembra che abbia fatto Un milione di danni a chiunque Sembra proprio che abbia fatto Più danni che altro Questa faccenda Un po' se riusciamo Non riusciamo Sai che lui forse riesce a Ah non è vero E che sta Sta piovendo tutta fuffa E non capisco se possiamo Se sia fattibile Spostarsi forse Ai 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 Dai è morto Ok vabbè stiamo messi abbastanza bene Mi spiace per me Mi spiace per me Perché va bene C'è delle belle spell Però niente Era sta roba Che faceva danni ad aria Sto sponge Sponge qua 478 Gli è arrivato Ho visto Ho visto veramente Un 478 Ok Ok Mi rompe parecchio il cazzo sto coso, devo dire E mi serve, siamo arrivati nel momento in cui devo poppare una pozione di quelle normali E anche una curetta a lei Vabbè a sti prezzi venite qua Oh, l'avete scassato La minchia all'infinito, è in moto Ok, niente male La situazione è stata grigina Il cane è esploso Meryl la resserò tra una vita e mezza se tutto va bene Però loro ce l'hanno il Regen adesso Lui no, e vabbè Lui per qualche motivo no Vai più vicino Non c'è la portata Ok, ce lo deve avere, è importante Deve averci il Regen Deve averci il Regen Ho finito le pozze Quando usciamo tocca andare a vendere Prendere le pozioncine Cosine Tutto qua Adesso Meryl sta muore, state a vedere Guarda, 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 guarda Guarda come sta muore Morto Nice Che avrà droppato Si, ciao Paul Ciao, ciao No, non è possibile Poverino Tipo già Perché è scappato Secreto può fare questa persona a morta Creature Non lo sa Secreto può fare qualcosa che non lo sa Non Nei Un minuto Un minuto Non Grazie Io Abbiamo Molto Per me Sotto qui Alla Paul non era come gli altri Nero 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 Abbiamo finito, possiamo andare dal Keep Tra l'altro ci manca abbastanza poco per fare il 20 Forse ce la facciamo in queste puntate, chi lo sa Un copricapo di merda Il Varterra l'ha droppato Dei soldi Un arco merdoso e un amuleto marcio Niente male, niente male Una roba di qualità Proviamo ad andare da questa parte No, Nevermind è chiuso Maremma, maremma, maremma Ah, però aspetta, c'è una pila di tesori qua, eh Attenzione Sei soldi Ah, tra l'altro c'è una pila di Una lama di velluto Mamma mia, regà, però Roba, veramente, eh Proprio la roba scaduta ci sta qui La roba scaduta nel 2019 Che bisogna specificare Perché magari è scaduta da due settimane Ancora buona, no? Questa è proprio scaduta da duemila anni Così non l'aiuti, in effetti Ah, proprio lui gliel'ha detto Tu sei L'ha detto È scappata come se fossi un mostro E... E... Ferris L'ha detto Sì, tu sei un mostro Minchia Ah, ecco lì No, bene Aspetta un po' Ah, questo giustamente Non gli fa niente Perché sono dei Ah, eccolo Eccolo Beh, fa un po' di danni Dai, non è una cosa così Estrema, diciamo E il chain Scusa, questo qui dovrebbe colpire più cose Che puoi raggiungere anche i nemici circostanti Scossa, dirama due volte Però non mi sembra che sto sia diramata Non capisco Lei fa proprio zero danni Comunque Non mi fa impazzire Sta roba che c'ha Vediamo un po' questo Wow, complimenti Complimenti Ecco, vai, vai Fai quello che ti viene meglio Non so, sarà che l'ho buildata velocemente così Non sono stato lì a seguire la build del mago Entropico Elfo Guardiano Non so che è Il sangue quello che è Però non mi sembra che faccia di gran danno Sembra un po' una merda Anzi, se proprio la devo di tutta Però vabbè, vediamo, vediamo Poi magari verrà fuori qualcosa di decente L'avranno mandata a morire probabilmente Ma questi si svegliano Non è vero Ma questi si svegliano, dicevo Lei c'aveva la mega tempesta Quale cazzaccio era la tempesta? Eh, beh, 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 beh Ma scusate Ce l'avevo io la tempestone Era questa? Sì, aspetta un attimo Facciamo così, eh Mettiamo il team indietro Mamma mia Non si riesce a cliccare nulla E marcio sto coso Come faccio adesso? Devo Madonna santa Ma guarda, guarda Che è proprio È proprio lurido, eh È proprio lurido Cioè c'ha dei sistemi Dei meccanismi Che vanno veramente Non rivisti Vanno buttati Iiettati al secchio E buonanotte Ma sì, ma morite tutti Ma che vedevo di Ma c'avete l'intelligenza artificiale Ed è un pupazzo Tra l'altro lui non si muove più Finito Questo era quel Quello Il problema Il problema grosso Delle spell A o E Che fanno danno Anche agli alleati In questo Dragon Age qua È che A parte spesso Volentieri Gli spazi sono un po' troppo chiusi E E poi non Non lo so C'è qua C'è qua C'è chi è rimorta C'è proprio qualcosa Del feeling Che non Che non va bene Non funziona Cioè Non lo so Qualcosa di marcia Ragazzi Bisogna fare fuori Quel coso lì Perché se no Se no ci fa un culo Come una staccia L'orore gelo Qua ci fanno Eh ci fanno La fine del sorcio Qua Ci fanno La fine del sorcio Non mi piace Far proprio una finaccia Vabbè Carichiamo Ci è andata male Meryl è inutile Come lo schifo Proprio Come le banconote Da 97 dollari Senti Meryl Ehm Di pazienza No no It makes sense No 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 Guardali Già questa merda Di cosa Qui che è Improponibile Da gestire Andate indietro Per l'amor di dio Lasciate che Forro vada avanti Da solo Vediamo Vediamo che riusciamo A combinare Facendo proprio Spire Bello Bello C'è rimasta Più una mazza Praticamente Ah Meryl è morta Forse è il caso Che sposti Il team Tipo da questa Parte qua Potrebbe essere Una morsa Intelligente Bisogna proprio Farli fuori Instant Quei cazzo Che cose Se cazzo Hanno una spell Non c'hanno Animazione Poi non te l'interrompe Ma che cazzo Vabbè Comunque Alla fine Ci possiamo pure Tuffare qua dentro Non è così grave La cosa Però bisogna Tipo fare L'orrore gelido Instant Dove diavolo è Ma Veramente è andato Là in fondo Sto cosa Oltretutto Meryl Gli fa Zero danni A questo qua Che Il che Non è buono Abbiamo fatto fuori Ebbè abbiamo vinto Posso E' finito E' finito tutto Abbiamo semplicemente Vinto Vedi che lei fa Veramente un cazzo Di danni Fa proprio ridere Fa veramente Veramente ridere Meryl Vabbè Appena la toglieremo Dalle palle Sono un botto Dei nemici Raga Proprio un botto Guarda lei Ne sta Fightando 27 insieme A bomber D'altri tempi Ben fatto Ma c'ha tutto Attivo Sì Lui pure Sì Ma una certa Doveva per forza Diventare invisibile Se no La situazione Era Era grigia Forza Vai 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 Ok Questo è stato un bel fight Stronzetto Devo dire Parecchio Stronzetto E noi dobbiamo uscire Da lì Però prima Lutiamo questi Scheredrini Con le scorie Etere Arroganza E sarà Buona Questa staffa Golosa Usciamo No Proveranno Ammazzarci Pure Gli Elfi Della Mega Disagio Questi morti Qua Strano Erano Solo Un Presagio Se vogliono Benissimo Sti Due Rustico Fenris Non Non le sta Simpatica Ma neanche Meh Molto Molto Meh Allora Prendiamo Tutte le pozioni Che c'ha Così almeno Stiamo sereni Pozione Pozione di Delirion Pure Vai Modellino di Alla L'armatura Di Merrill Runa Della Natura Motivo Della Runa Ah Vendiamogli Tutte le Cianfrusaglie Arrivederci L'arrivederci L'arrivederci Sono meno tranquilla Sapendo che non siete morti dal Varterran Che ne sapeva lui che era chiuso là dentro Scusa L'ha letto su un gruppo di Whatsapp Fammi capire No Scusate Allora Questa è un'incongruenza Grossa Abbiate pazienza Cioè fatemi capire Sono matto io Il merino Sì 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 dai ripariamolo Che voglio vedere Che diavolo succede Dagli l'auli No Impedisci di farlo Illusa Illusa Chi è Vai divertiti Ma solo Divertiti Meryl Vediamo che cazzo Paris è incazzatissimo Povero Cristo Fantasma Possiamo andare a casa di Meryl A vedere che diavolo succede Spero di sì Perché voglio vedere Tipo il diavolo Che esce dal Dal coso Comunque dicevo Scusate Allora Paul e quegli altri Eravamo dentro quella caverna Noi siamo andati a cercarli Quindi loro erano lì Già precedentemente No? Giusto Ci siamo Allora come cazzo Facevano a sapere Che Meryl Voleva Sistemare quello specchio Se eravamo andati a chiederlo Alla guardiana Proprio in quel momento Cioè Gli hanno scritto Sul gruppo di Whatsapp Evidentemente Oppure Mi è sfuggito qualcosa A me Ma non credo Poi a questo punto Secondo voi Gli Elfi sono più Da Whatsapp O da Telegram O addirittura Da WeChat Potrebbe Io li vedo parecchio più Su Telegram Gli Elfi Onestamente Li vedo che usano Telegram Che è un po' più alternativo No? Stanno nei boschi Energia pulita Le cose Più Telegram Più Telegram Allora Qua abbiamo poi L'altra missione Gli incarichi dell'erborista Le cani Finiremo mai Ma che cazzo Non Non me li Incarichi dell'erborista Andiamo a consegnare Questa dell'erborista Poi voglio vedere A casa dei Meryl Se possiamo andarci Ma non credo Cioè o meglio Possiamo andarci Ma non credo ci sia nulla Che cosa era Le Meryl Non ho mai Non ho mai Viuto un Dalish Non ho mai Non mi ricordo Che voi Vengono Di l'erbori Un'erbori Non 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 Sì, però prima Facciamo una cosa Andiamo un attimo alla capanna di Merrill Io non credo che ci sia nulla Andiamo Oh, e invece? Vai Eh, eh Mo' so, cazzi, mo' lo sistema Sto coso è scerdiavolo Modestamente Eh Vabbè, frenzonato, via Frenzonato malamente Proprio Se è il primo vero amico Porco due Mannaggia Ma questo coso cos'è? Tipo uno di quei vassoi C'ha i vassoi Quelli delle scene pronte O delle scene Della galera Dico Figo Ah, e mo' Ha un dilemma Del formaggio È qualcosa che abbiamo recuperato precedentemente Che non mi ricordo Guarda l'armatura Che avevamo preso al po' Non lo so Ok, non è nell'armatura Perché questa L'armatura è un vestito Quindi I'll find a good place For this Ok Abbiamo finito con lei Cambiamo il party Perché lei Bonk Arrivederci Ci serve il dips Quello vero The big dips E Ci abbiamo la chiesa Ci abbiamo una questione Di famiglia Ci abbiamo la roba Dell'erborista Vediamo un po' Un'occasione mancata Andiamo a fare la questione Di famiglia De notte Por la noce